Siamo dentro l'area di stoccaggio di Fontanelle dove per entrare ci vorrebbe solo la mascherina come abbiamo visto anche nella ripresa di Gerry Butera. Abbiamo qui con noi un abitante che lamenta la puzza che da quattro mesi ha dovuto sopportare. Vorrei fare i complimenti al sindaco, all'aggiunto comunale, all'assessore, mi sembra che si chiama Ammel, di questo successo che hanno avuto. Sono stati capaci di trasformare un campetto di calcio, adibito al calcio per i ragazzi, a discarica pubblica. Io le voglio fare i complimenti. A quanto pare adesso si sta smandellando l'aria, però la puzza che c'è qui dentro si dovrebbe sentire. La potevano lavare per bene come era prima. Vogliamo solo questo, perché io abito qua di fronte dove c'erano quelle due tende e quattro mesi che respiro, puzza, puzza e puzza. Se va bene così. Ecco, lei, il messaggio, è chiaro il suo messaggio, la sua lamentela, ma cosa suggerisce al comune perché si possa porre fine a questa situazione? Lo devono sapere loro. Ci sono tanti posti a zona industriale dove non ci sono abitazioni. Devono trovare, prima di fare queste cose, cercano il luogo e poi fanno la differenziata. Non è che si fanno la differenziata e si portano l'immunizia davanti alle persone. Siamo a Fontanelle, davanti alle scuole del quartiere. Qui sono stati sorpresi dei lanciatori seriali, ma adesso la discarica ha preso fuoco. Qualcuno magari avrà piccato senza pensare alle conseguenze per la salute. Ma prima o poi doveva succedere, visto che il comune non si è curato affatto di rimuovere la montagna di rifiuti. Come vedete adesso c'è solo cenere. Grazie. 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 Grazie.